salve buongiorno a tutti benvenuti al consueto appuntamento del fine settimana bene lasciamo alle nostre spalle il mese di agosto quindi anche nonché il periodo estivo e ci accingiamo quindi ad attraversare per i prossimi quattro mesi appunto l'ultima parte l'ultimo quadrimestre del 2018 iniziamo già a trarre le prime conclusioni dal punto di vista è stato un 2018 praticamente non solo diciamo andando ad analizzare la situazione non solo per quanto riguarda l'assetto macroeconomico ma in particolare generale diciamo l'aspetto generale sentimenti del mercato è stato un 2018 abbastanza convulso convulso da diverse da diverse notizie diversi da diverse situazioni un po che hanno un po destabilizzato i mercati in particolare la mina pagante trump trump che dall'ultimi sondaggi che sono stati appunto proprio la settimana scorsa visto che siamo quasi a due anni e mezzo al suo metà mandato quindi negli stati uniti a novembre ci sarà una ci sarà il solito elezioni di metà mandato praticamente a momento per quanto riguarda il per quanto riguarda appunto il tycoon new yorkese in pratica è stato in questo momento alla alla peggiore quindi alla peggiore percentuale di notorietà degli ultimi sondaggi quindi si si perde 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 popolarità negli stati uniti questo perché perché praticamente all'opinione pubblica non piace sia interna che esterna per un anno molto travagliato sembra che appunto se vogliamo dirla tutta sembra che è la persona è un po prima di tutto è un presidente un po sui generis un po diverso rispetto agli altri dei suoi predecessori ma anche perché sembra che vuole ha sempre bisogno di un suo nemico diciamo ha sempre diciamo vuole dalle ultime indicazioni appunto vedete anzi le ultime indicazioni tutto il mese tutto l'anno soprattutto nel 2018 ha sempre avuto un si è partiti con con la corea poi dopo con la cina con le sue i vari twitter quindi la cosiddetta guerra commerciale che poi vuole stenderla anche a tutto il resto del mondo anche all'europa compresa e quindi il suo voler ficcare il naso su le questioni inerenti di politica monetaria quindi una novità rispetto al soprattutto una novità rispetto ai suoi predecessori visto che nessuno diciamo ha mai messo ha mai si è mai intromesso appunto nella nella gestione della fede del riserva nessun presidente appunto nella gestione della fede del riserva del suo presidente quindi sta accriticato continua a criticare power quindi è una situazione dove praticamente questo andi rivieni questo praticamente di sue motivazioni il suo modo di fare ha scatenato i mercati ha portato soprattutto i mercati in una forte stabilità in particolare l'abbiamo visto già in diverse occasioni nelle varie dirette live quando abbiamo commentato anche la situazione legata al future dollar index alla forza all'indice che misura la forza del dollar americano che ovviamente diciamo continua ad in questo momento diciamo non ha ancora una negli ultimi mesi in particolare nei mesi estivi siamo stati sempre all'interno il future è stato imprigionato anche se abbastanza grande gap però all'interno di una di una movimentazione di congestione bene detto questo iniziamo a vedere un po' quello che è successo per quanto riguarda i mercati europei qui nell'ultima seduta del mese abbiamo una chiusura con il segno meno i dax che chiude a meno 1,04 per cento l'iberx a meno 0,72 per cento il cac a meno 1,30 per cento un fuzzi londra a meno 1,11 per cento un fuzzi mi a meno 1,10 per cento diciamo che queste indicazioni sono dovute appunto alle tensioni commerciali questi movimenti negativi sempre tra l'america e la cina che tornano appunto a spingere le piazze finanziarie al ribasso la notizia del giorno però è rappresentata anche dalla vendita da parte di white bread della catena costa alla coca cola per un enterprise value di 3,9 miliardi di sterline giornale di acquisti anche per il titolo sas in uscita di conti trimestrali migliori delle stime e della revisione a rialzo della guidance mentre astrazeneca ha pagato pegno ai risultati preliminari insoddisfacenti detesta fase di fase 3 di un farmaco per curare il lupus eritematoso beh questa è la situazione adesso andiamo a vedere anche per quello che è successo con piazza affari piazza affari quindi vedete ancora una giornata come abbiamo detto prima segnata dal nervosismo quella dei mercati che risentono le nuove tensioni commerciali innescate appunto dal presidente donald trump sulla minaccia dell'uscita degli states dal vuttio pensate un po' quindi si mette fuoco sul fuoco occhi degli investitori poi è puntato anche sull'argentina dove si sta consumando una nuova crisi all'ombra del peso e sulla turchia ma detto questo milano ha chiuso abbiamo visto che chiude a meno 1,10% l'attenzione resta molto alta sullo spread btb bond dopo che le aste di titolo di stato di ieri hanno mostrato un sensibile aumento degli interessi richiesti dagli investitori proprio ieri il btb decennale piazzato dal tesoro è tornato sopra il 3% per la prima volta del 2013 un aumento dello spread che ha conti fatti secondo la stima del direttore dell'osservatorio sui conti pubblici carlo cottarelli ha costato 113 milioni quest'anno 1,4 miliardi del 2019 intanto sono arrivati ieri sera il giudizio dell'agenzia di rating fitch che praticamente che in pratica ha confermato il rating dell'italia ma abbassa appunto l'outlook negativo da stabile a negativo quindi praticamente la situazione è abbastanza significa appunto soprattutto questo perché sono ancora molto significativo questo potrebbe andare un po' a destabilizzare ancora di più la situazione dell'italia in vista soprattutto della scrittura della legge di bilancio la prima pagella sul governo giallo verde e che cosa ovviamente il tutto viene sempre gestito dai big dalle società di rating quindi in parole povere secondo il mio modesto parere in parole povere questo potrebbe essere un'anticamera per ulteriori elezioni anticipate se il periodo caldo sarà ottobre dicembre gli ultimi tre mesi dove appunto saranno messi a dura prova il governo il binomio giallo verde quindi il governo guidato in questo momento da conte ovviamente se riusciranno quindi se ci sarà delle riusciano a trovare appunto il nodo riusciranno a risolvere tutti questi problemi ovviamente di 2019 ma molto probabilmente il 2019 sarà appunto un dal 2019 in poi la situazione sarà più stabile a piazza affari per quanto riguarda più stabile ovvero per quanto riguarda appunto il governo italiano senza badare ad ci saranno appunto potrebbero concentrarsi su altre problematiche quindi non solo sul fattore migrazione che è molto molto importante è seguito dalla maggior parte degli italiani ma anche soprattutto in vista di altri importanti appuntamenti che l'italia sarà praticamente dovrà essere pronta ad affrontare nel nei prossimi nei prossimi mesi bene questa è la situazione a piazza affari tra i titoli sotto i riflettori si segnala ancora una volta atlantia che chiude oggi a 1,05 dopo la risposta di autostrade per l'italia alle contestazioni del governo sulla tragedia di genova e le reazioni degli esponenti dell'esecutivo il cda di aspi ha confermato il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della società puntuale però la replica del ministro dei trasporti delle infrastrutture danilo toninelli che parla di indecenza secondo il ministro incredibile sentì parlare di puntuale adempimento degli obblighi dopo una tragedia con 43 morti e 9 feriti cenni agli scollati e imprese in ginocchio scrive appunto il ministro su twitter e continua siamo all'indecenza rimetteremo le cose a posto e rideremo sicurezza e servizio ai cittadini che viaggiano anche il vice premier luigi di maio non si è atteso dalla risposta che ha commentato quindi a risposta all'aspi su facebook affermando che l'autostrade dice di aver fatto un puntuale adempimento degli obblighi concessori previsti della convenzione con lo stato ma la sono me la sono riletta tutto attentamente far crollare il ponte causando 43 morti non era nel contratto dal benetton ci aspettiamo solo le scuse e soldi per la ricostruzione del ponte che non faranno loro per il resto consiglio ad autostrade di tacere italiani non ne possono più delle loro dichiarazioni fuori luogo mentre sul comparto bancario ubibanca che dopo che morgan stanley alzato il target di prezzo a 370 per euro per azione chiude a meno 0,53 per cento di credito a meno e 30 b per a meno 1 0 7 tra gli altri titoli emergono quelli più esposti alla crisi argentina come tenaris più 1 62 e nel più meno 1 e 14 pirelli e company che è arrivato a perdere il 4,21 per cento a pesare in quest'ultimo caso oltre alla crisi del peso anche il giudizio negativo di berenberg che ha tagliato il rating da hold a sell e abbassato il target price da 7 a 6 euro e 50 e il risente del ribasso del greggio e chiude a meno 1,36 per cento mentre telecom italia dove aver toccato il minimo di giornata 0,545 euro livello che non si vedeva dal primo settembre 2013 chiude a 3,35 per cento nella agenda macro da segnalare il dato sull'infrazione su pil lista rende noto che nel secondo trimestre pil espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010 corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente dell'1,2 per cento nei confronti del secondo trimestre 2017 per quanto riguarda invece l'inflazione in base alle stime preliminari ad agosto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,5 per cento su base mensile e dell'1,7 su base annua infine da segnalare anche i dati istat sul lavoro per il mese di luglio del 2018 con il tasso di disoccupazione sceso al 10,4 per cento il minimo da marzo del 2012 bene detto questo però andiamo a vedere anche quello che è successo per quanto riguarda le ultime news quando state elaborate ieri in agenda macro ci sono state le indicazioni relative alle vendite al dettaglio tedesche più 0,4 mensile il tasso di disoccupazione italiano 10,4 e della zona euro 8,2 è il tasso di inflazione preliminare per quanto riguarda l'eurolandia il dato ad agosto è salito del 2 per cento anno in versione completa dal 2,1 e di un punto percentuale in quella depurata dall'1,1 per cento durante la sessione americana sono stati rilasciati dal canada l'indice che misura l'andamento dei prezzi delle materie prime che nel mese di luglio ha fatto segnare un 0,7 per cento meno 0,2 invece per quello che misura i prezzi dei prodotti industriali dagli stati uniti invece l'indice che misura la fiducia dei consumatori americani elaborato dall'università del michigan è migliorato attestandosi ad agosto a 96,2 punti contro i 95,3 della passata rilevazione il mercato si attendeva un dato pari a 95,5 punti bene detto questo andiamo a vedere un po quello che è successo per quanto riguarda invece la per quello che succederà la prima settimana del mese di settembre partiamo dal lunedì 3 settembre dove praticamente alle 3 e 30 dove in pratica alle tre e mezza si parte con le vendie al dettaglio dell'australia alle 9,55 dalla zona euro l'indice dei direttori degli acquisti del settore manufatturiero della germania di agosto poi alle 10 dalla zona euro l'indice pmi manufatturiero di agosto alle 13 da gran bretagna indice dei direttori degli acquisti del settore manufatturiero di agosto passiamo a martedì 4 la prima avremo già alle 6 e mezza dall'australia la prima decisione primo meeting sui tassi interesse la banca centrale australiana quindi primo meeting della settimana nonché del mese alle 10 e 30 dalla gran bretagna l'indice direttori degli acquisti del settore delle costruzioni mentre dagli stati uniti l'indice direttori degli acquisti del settore manufatturiero di agosto e poi lo stesso però con gli sm di agosto alle ore 16 bene passiamo a mercoledì 5 agosto 5 settembre alle 3 e mezza dall'australia il pil del secondo trimestre alle 10 e 30 l'indice direttori degli acquisti del settore dei servizi di agosto alle ore 11 le venite al dettaglio di luglio alle ore 16 le al canada questa volta ci sarà la banca centrale canamidese sui tassi interesse e poi il consueto appuntamento di metà settimana sulle scorte di petrolio greggio passiamo a giovedì 6 settembre durante la sessione europea non ci saranno dati interessanti quindi passiamo direttamente a quella americana dove alle 14 e 15 avremo la variazione dell'occupazione agricola adp di agosto il dato anticipatore quindi nel gergo tecnico dato anticipatore di non far parole alle 14 e 30 quindi un quarto d'ora più tardi le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione e poi alle ore 16 l'indice ism non manufatturiero di agosto alle 14 e 30 dal canada il pil di giugno è quello annuale venerdì 7 primo venerdì del mese quindi molto importante data interessante in quanto si parte alle ore 11 con il pil della zona euro del secondo trimestre annuale ma attenzione alle 14 e 30 dato di altissima rilevanza soprattutto per quanto riguarda la volatilità sui mercati non fa un perol di agosto alle 14 e 30 allo stesso orario il tasso di disoccupazione di agosto e poi dal canada sempre alle 14 e 30 la variazione del livello di occupazione e tasso di disoccupazione di agosto e poi alle 16 chiude la settimana l'indice eway degli elettori degli acquisti del mese di agosto bene questo è il calendario macroeconomico con le notizie che già ho filtrato per quanto riguarda la prossima settimana bene adesso passiamo alla seconda parte all'analisi del future del dollar index dove praticamente vedete c'è stata una settimana una settimana stavo dicendo praticamente vedete se conteggiamo verdi settimana che ha portato a mente in direzione del trend principale il future dollar index ricordiamo che siamo sempre all'interno di una nonostante che ha attraversato questa zona di congestione poi c'è stato un primo movimento al rialzo fino a toccare questi massimo a 96 e 86 poi c'è stata una virata forte virata che ha battuto fuori ha messo fuori il 50% di fibonacci e 68 però a 94 e 41 eccolo qua c'è stato il il 94 e 41 è riuscito a contenere la forza dei venditori quindi il prezzo vedete come ha rimbalzato su questa zona e si è quindi andato adesso a riprendere un'altra volta il 95 e 09 ovviamente alla settimana prossima nel caso in cui riportandosi ovviamente al di sopra il lato superiore di questa fase flat che appunto ha condizionato un po' tutti i mesi estivi che stavo dicendo prima ovviamente sopra 95 09 se riesce a rompere questo 95 09 avremo un'ulteriore movimentazione al rialzo ovviamente ovviamente quindi in ottica se restringo il grafico però vedete siamo sempre all'interno di una movimentazione di stampo rialzista quella di lungo termine bene questa è la situazione adesso andiamo a vedere anche il nostro best and worst come che cosa ci dice allora praticamente vedete abbiamo una situazione mi sposto sul mensile perché ovviamente adesso dobbiamo andare ad identificare anche in ottica mensile quello che è successo abbiamo un franco che è riuscito è stato il protagonista positivo del mese di agosto riuscendo appunto a guadagnare il 22,42 per cento mentre il dollaro australiano è il dollaro della nuova zeranda che ancora una volta le due valute oceaniche sono state quelle più che hanno perso quelle più bersagliate per quanto riguarda le vendite dove rispettivamente il dollaro della nuova zeranda ha perso il 17,43 e il dollaro australiano il 19,85 l'euro praticamente meno 004 quindi una situazione stabile e poi abbiamo il a seguire abbiamo uno yen 10,48 un dollaro americano a 5,29 per quanto riguarda invece la settimana andiamo a vedere anche i dati riferiti alla settimana abbiamo eccoli qua sempre out e new zealand negativi soprattutto il dollaro australiano meno di 13,79 per cento e questo è da seguire la prossima settimana in quanto avete visto che dal calendario economico abbiamo visto tra un po' poco prima poco fa ci sono ci sono ci saranno diversi dati in particolare i tassi interesse quindi ciò potrebbe dare un ulteriore sussulto alla valuta australiana abbiamo sempre franco nell'ultima settimana ha reagito forte 12 e 23 seguito una stellina che in rally all'interno di quella forte di quella movimentazione ribassista dovuto appunto di un trend di fondo ribassista dovuto appunto ai problemi legati alla brexit bene detto questo andiamo a vedere invece le altre indicazioni che guardiamo quindi passiamo a finvitz ed ovviamente abbiamo qua a momento vedete abbiamo della giornata abbiamo il dollaro australiano come abbiamo visto prima meno 1,01 franco 004 settimana questi sono i dati settimanali dal sempre il dollaro australiano il dollaro non a zero anno vedete il franco a 1,48 questo è la percentuale di performance relativa rispetto al dollaro americano ovvero il dollaro americano resta come sparti a quindi ecco perché non ha la percentuale cioè abbiamo canada euro new zealand e a e dollaro australiano hanno fatto peggio del dollaro americano invece meglio hanno fatto lo yen sterlina e franco questi sono i dati mensili eccoli qua confermo come abbiamo visto prima best in worst che ci dice la stessa cosa poi andiamo a vedere a momento a metà anno che cosa sta succedendo metà anno ancora vedete out new zealand sterlina euro il dollaro rimane ancora quello con la maggiore performance andiamo a vedere l'annuale in questo momento quindi diciamo i primi otto mesi del del 2018 è come abbiamo vedete dollaro della nuova zelanda dollaro australiano vedete anche sono le peggiori valute mentre l'unico che ha fatto più sembra strano ma perché il 2018 è partito molto bene l'asterlina 0,17 per cento bene questa è la situazione adesso andiamo a vedere un poco beh arriviamo alla terza parte del nostro la nostra video analisi del fine settimana ed ci concentriamo appunto sull'euro dollaro settimanale giornale in particolare poi anche h4 beh il settimanale vedete praticamente in questo momento abbiamo una pin eccola qua quindi una indicazione di puramente di stampo ribassista sul settimanale quindi questa è situazione molto interessante da seguire con falsa rottura di 1 16 782 un livello che praticamente è stato testato in passato diverse volte quindi questa situazione già siamo sella mercato però ci dà indicazione per un eventuale movimentazione al ribasso è un ritorno all'interno del movimento ribassista che praticamente sta accompagnando un po' tutta diciamo il la 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 coppia la peggior il fiber esattamente vedete dai primi giorni dalle prime dalle prime settimane del mese di gennaio il prezzo ha performato verso il basso 1245 punti quindi molto probabilmente potremmo assistere un rientro al ribasso con un primo target posizionato a 1 14 224 un secondo target a 1 12 156 e un terzo target a 1 10 e 09 quindi questi potrebbero essere diciamo i punti da prendere in considerazione per il prossimo mese bene questa è la questa è la situazione ok allora andiamo a vedere invece adesso quindi il giornaliero sul giornaliero vedete eccolo qua si evidenzia questa situazione tecnica vedete discesa quindi massimi decrescenti eccoli qua punti di swing decrescenti che appunto confermano ancora la movimentazione ribassista quindi qua sotto si va il primo target come abbiamo detto prima a 1 14 224 quindi molto probabilmente il prezzo andrà quindi a rompere anche il minimo annuale posizionato proprio su questo minimo che è stato raggiunto esattamente il 15 agosto bene passiamo al dollaro yen dollaro yen la situazione in questo momento quindi per quanto riguarda il il dollaro yen allora sul settimanale allora il settimanale la l'intenzione è è ancora rialzista io siamo buy a mercato vedete perché rialzista perché praticamente qua abbiamo un punto di swing dove è partito questo movimento eccolo qua abbiamo il primo impulso poi la correzione il secondo movimento rialzista la correzione e quindi da poi abbiamo l'ultimo punto di swing e da qua dovrebbe iniziare a ripartire una nuova movimentazione al rialzo beh questa è la situazione andiamo a vedere anche il giornaliero che cosa ci dice anche il giornaliero come vi dicevo prima è confermato eccolo qua qua abbiamo una pin vedete quindi si potrebbe entrare anche da qua sotto andiamo a vedere un attimo la situazione questo qua un attimo che è stato invalidato non allora un attimo che vado ok allora andando a tracciare fibonacci dall'ultimo massimo all'ultimo minimo vediamo un po vedete c'è stato questo rimbalzo su 38 e 2 però sopra questa zona oppure anche da qua si potrebbe entrare nuovamente a mercato in acquisto meglio vedere lo vedere la situazione su h4 h4 eccolo qua questo è il punto di swing che vi dicevo prima si c'è proprio un momento un movimento importante qua vedete quindi punto di swing questa zona potrebbe essere oggetto di altri long andiamo a vedere sterlina dollaro il cable cable settimanale allora settimanale il cable lo siamo sempre eccoci qua siamo sempre sel questo è il primo punto di swing ultimo punto di swing vedete che è andata a prendersi questa zona questa zona di supply c'è stato questo movimento di esattamente movimento dal massimo all'ultimo minimo di 1710 punti adesso c'è questa correzione il prezzo vuole continuare questa risalita abbiamo se ci concentriamo l'attenzione sulle ultime due candele un po più grafico abbiamo un breakout vedete un breakout anche se abbiamo queste shadow troppo estese però potrebbe continuare questa movimentazione al rialzo potrebbe aumentare potrebbe diciamo avessi potrebbe continuare questa movimentazione al rialzo ed sul giornaliero quindi andiamo a vedere anche il giornaliero il giornaliero quindi ancora diciamo una situazione dove vedete una allora sul settimanale vedete questa potrebbe essere un attimo solo scusate sul settimanale questa situazione potrebbe continuare scusate ho fatto un errore potrebbe essere una classica flag questa eccola qua e il prezzo potrebbe ritornare nuovamente a scendere ok quindi vediamo sul giornaliero bene quale come eccola qua questa è la flag è la flag che abbiamo individuato prima allargo un po più grafico la movimentazione sempre ribassista eccola qua vedete come è andato eccola qua questa è la flag sotto questa zona vedete il test di 1.30.186 il mio livello non convenzionale come è riuscire a testare a fare un punto di swing il prezzo è sceso giù breakout quindi tra giovedì e venerdì un altro breakout quindi e qua potrebbe ritornare un'altra volta all'interno di questa tendenza ribassista ok quindi l'indicazione rimane sell in questo momento vedete il classico movimento quindi andiamo per un eventuale operazione sell bene quindi la situazione è questa al momento per il cable inoltre non dobbiamo dimenticare mi dimenticavo sul cable abbiamo sempre questa bearish max guard tray eccola qui quindi che dove i target ancora devono essere raggiunti quindi andiamo a vedere un po il target ancora quindi abbiamo allora un attimo solo quindi questo è il primo target che eccoci qua quindi praticamente i prossimi target su h4 dovrebbero essere questi qua quindi alla fine vedete come togliamo un attimo eccola qua trend tot 2 236 ok quindi la situazione bene quindi praticamente abbiamo anche una bearish max guard che effettivamente ancora deve raggiungere i target quindi possiamo avere altre movimentazioni ribassiste quindi questo praticamente vedete quello che abbiamo visto prima per quanto riguarda il il canale eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua questo vedete come alla rottura di questo canale si potrebbe entrare ulteriormente al ribasso quindi faccio il colore diverso eccolo qua eccolo qua eccolo qua bene questa è la situazione adesso andiamo a vedere usd franco quindi per quanto riguarda usd franco la situazione vedete rimane anch'essa rimane rimane sell però sul in ottica andiamo a vedere subito in ottica settimanale ok in ottica settimanale abbiamo un punto di swing vedete quindi su tutte e tre i time frame analizzati questo è un punto di swing questo è un altro questo è un altro punto di swing quindi potrebbe partire una movimentazione rialzista quindi in questo momento potrebbe partire una movimentazione rialzista quindi abbiamo uno swing low su i tre time frame quindi eccoci qua quindi vedete abbiamo andiamo a vedere proprio tracciando fibonacci dove parte questo eccolo qua vedete quindi praticamente potrebbe continuare una breve discesa quindi questo qua potrebbe essere il punto l'area 50 61 8 per poter entrare al mercato buy e la situazione vedete eccola qua qua abbiamo e quindi potrebbe anche giornaliero anche settimanale e l'h4 ci dà una indicazione al rialzo per quanto riguarda invece auto sd auto sd praticamente siamo ho chiuso l'operazione prima di a pochi punti prima del target perché stava facendo un rimbalzo su questa zona 120 punti 125 punti precisamente ed sul settimanale siamo arrivati qua vedete è una zona molto interessante una zona che praticamente è stata abbattuta in passato eccola qui vedete è stata abbattuta in passato più forte quindi un'area di rimbalzo quindi praticamente su auto sd abbiamo test zona zona demanda quindi da qua potrebbe partire una movimentazione al rialzo come infatti è passata come anche in passato vedete qui e qui andiamo a vedere su auto sd sul sul giornaliero quindi il giornaliero mi dà questa indicazione vedete come questa zona da questa zona potrebbe partire un movimento buy e anche su h4 su h4 eccolo qua già abbiamo una prima movimentazione però aspettiamo quello che ci dirà il mercato nelle prime movimentazioni della prossima settimana andiamo a vedere usd cad allora per quanto riguarda usd cad allora su usd cad invece abbiamo sul grafico settimanale abbiamo una bearish net star con il punto d proprio sul lato superiore di questo di questo big canale rialzista adesso c'è stato già vedete un rimbalzo su questo canale al di sotto allora molto probabilmente io che cosa aspetterò una rottura di questo canale un pullback eventuale pullback per poter entrare eventualmente sell a mercato questa situazione questa situazione andiamo anche a verificare sul giornaliero allora sul giornaliero invece abbiamo vedete questo canale per ed eccolo qua questo è il punto quindi dove praticamente potremmo abbiamo detto prima dove diciamo c'è la possibilità di un ingresso a mercato abbiamo visto prima no eccolo qua un ingresso a mercato in vendita questo è un altro il canale che abbiamo visto prima adesso lo facciamo un altro canale speriamo che si capisce eccolo qui eccolo qua vedete quindi all'interno di questo canale che sarebbe questo qua e quindi molto probabilmente un attimo che lo vado ad aggiustare come abbiamo visto prima e quindi a rottura di questo canale un pullback qua sotto ci potrebbe far entrare sell a mercato su sdcad abbiamo altrettanto una bearish white swan quindi un ulteriore indicazione ribassista quindi praticamente abbiamo anche qua una indicazione ribassista l'importante è andare a vedere quindi attendere quello che ci dirà il prezzo nelle prossime sedute di trading per poter decidere il prezzo di trading per poter decidere con precisione dove entrare a mercato in ultimo andiamo a vedere in zilandollari e kiwi allora settimanale sell indicazione sell fine di questa movimentazione correttiva la settimana è stata ribassista però vedete qui abbiamo un punto di swing quindi abbiamo potrebbe partire una movimentazione al rialzo se viene confermato questo punto di swing che quindi abbiamo un punto di swing low quindi eccolo qua andiamo a vedere sul giornaliero è questo qui lo vedete quindi un punto di swing low dove in pratica c'è stato questo inizio vedete questo è il capofila del movimento ribassista qua è la fine quindi da questa zona potrebbe partire un movimento long è finito il la movimentazione ribassista ovviamente dovremmo avere una dovremmo avere un 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 dovremmo avere una conferma per quanto riguarda la conferma allora per quanto riguarda la conferma andiamo a vedere un attimo se dove si è fermato abbiamo un altro piccolo punto di swing eccolo qua su 61.8 vedete quindi praticamente 68 si è fermato a 68 questa è una zona molto interessante da poter seguire per la prossima settimana che se mantiene potremmo entrare buy a mercato qui diciamo è finita la il movimento ribassista molto probabilmente però ripeto dovremmo avere altre informazioni al mercato sul giornaliero eccolo qua il giornaliero sarebbe andiamo a vedere anche l'h4 che cosa ci dice con precisione questo è il è il punto di swing quindi è il punto di swing dove se andiamo eccolo qua il 61.8 è questo però effettivamente se andiamo a guardare qua abbiamo una classica m che potrebbe essere un pattern la costruzione di un pattern armonico questo è il è il secondo questo è il primo triangolo vedete eccolo qua e da qua potrebbe partire una movimentazione al rialzo quindi con una pin qua abbiamo anche una pin quindi qua la situazione è molto interessante quindi più pin quindi abbiamo una pin proprio su 61.8 quindi da questa zona potrebbe partire una movimentazione al rialzo bene per questa settimana è tutto grazie mille per la vostra attenzione quindi ci aggiorniamo direttamente domani mattina si aggiorniamo direttamente con la prossima il prossimo mese il mese di settembre lunedì alle ore 8.30 con la prima diretta live e poi a settembre ripeto continueranno ritorneremo nel nel periodo normale quindi avremo anche il la diretta pomeridiana dalle 15 alle 15 e 40 dalle da lunedì al giovedì grazie mille per la vostra attenzione e alla prossima settimana e buon weekend a tutti grazie mille per la vostra attenzione e 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 la vostra attenzione